Siamo il fanalino di coda dell'Unione Europea, questa è la verità. Avete garantito che con l'introduzione di questo reddito di cittadinanza avreste cancellato la povertà e avreste anche fatto aumentare il quoziente dell'occupazione in Italia. Ebbene, con questo reddito di cittadinanza poco più di 2 milioni di nostri concittadini percepiranno reddito. Significa che avete cancellato 8 milioni di poveri. Caro Di Maio, da quel balcone hai illuso e ingannato 8 milioni di nostri concittadini e oggi vi stanno punendo nelle urne. Questo è quello che sta accadendo. Cari amici, ma voi credete realmente che abbassino un po' di incentivi agli imprenditori per far crescere l'occupazione in questo Paese? Qui ci vorrebbero più investimenti, ci vorrebbe il taglio del cuneo fiscale. Altro credito di cittadinanza. Allora voglio dire, caro Presidente Di Maio, non c'è mai presente nell'Etere. Lasci perdere i gilet gialli. Noi abbiamo già tanti guai in Italia. Non c'è bisogno che lui ce li porti dalla Francia. Caro Presidente Di Maio, noi le regaleremo un gilet azzurro. Questo emendamento lo prevederebbe, quello di aiutare il lavoro soprattutto. E allora, caro Presidente Di Maio, ma come facciamo a regalargli un gilet azzurro? Per noi quel gilet rappresenta la cultura del lavoro, rispetto dei lavoratori, rispetto di chi fa impresa. E allora pure Di Maio, con questo decreto, dovrebbe ricordarsi, il reddito di cittadinanza, dovrebbe ricordarsi di lui un gilet l'ha indossato, quello di Stua dallo stadio San Paolo di Napoli. Un lavoro dignitoso, decoroso. Peraltro, aveva anche una funzione sociale, caro sottosegretario. Quando svolgeva quel lavoro, tutti guardavano la partita, lui volgeva le spalle al campo, garantendo la sicurezza sugli spalti. E allora, caro Presidente Di Maio, noi siamo certi, siamo certi, vado a concludere, che i vertici dell'Uefa la promuoveranno a Stua della Champions League, col doppio dello stipendio. Il nostro auspicio è che lei torni a indossare quel gilet per liberare l'Italia e gli italiani dalle sue politiche che creano recessione e disoccupazione. Noi oggi, con il sorriso sul volto, glielo vogliamo regalare questo gilet. Date io la Di Maio. No, metta immediatamente giù quella cosa. Avanti. Non sono ammissibili queste manifestazioni da stadio. Grazie. Grazie. Grazie.